Ciao a tutti amici di Reganerd dal mio barbiere di fiducia quindi stiamo tornando alla normalità non più cast away ragazzi allora altra puntata estremamente importante quella di questa sera perché intanto ciao a tutti ciao Guido ciao Catarn ciao come al solito vi diamo il tempo di arrivare numerosi in diretta live ovviamente sia su Twitch che su Facebook questa sera continua il nostro viaggio all'interno del mondo delle case editrici italiane di fumetto grandissimo mio fratello Alpo direttamente dal TCBF ciao fratello un bacio e questa sera è per me veramente un piacere venerdì abbiamo avuto Magic Press e questa sera è un piacere per me ospitare anche Bao Publishing un incontro a cui tenevo anche particolarmente visto che ho avuto modo anche tante volte di interfacciarmi con Bao per un sacco di iniziative anche dal vivo eccetera e quindi credo sia assolutamente doveroso soffermarci a Milano e in questo caso appunto con i nostri due ospiti di questa sera per poter fare un po' il punto della situazione capire quali sono le iniziative della case editrice capire soprattutto il nuovo piano editoriale della case editrice soffermarci su alcune uscite che dovete assolutamente appuntarvi e per parlare anche di Restart che è un argomento che secondo me non è mai affrontato abbastanza perché dobbiamo renderci conto che è diverso da ogni punto di vista rispetto a una diversa case editrice con cui parliamo quindi ognuno con la propria attitudine giustamente ci mostrerà un pezzo di qualcosa che per noi potrebbe risultare decisamente molto interessante ciao Roberto allora io direi non perdiamo tempo assolutamente è il caso di dare il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera e quindi io tra l'altro vedo in backstage anche una cosa divertente quindi la mia prima ospite a cui veramente do il benvenuto qui su Lega Nerd è Caterina Marietti ciao ciao c'è anche il terzo membro della BAO c'è Ninja ecco lui mi sa che lo conosco c'è Ninja lui ormai è abituato lei ah lei non lo sapevo scusami credevo che non c'è no ma sicurati è un nome del cavolo che in effetti è preintendibile comunque sembra più brava di me a fare diretta lì mi imposa assolutamente plastica grazie Caterina di essere qui con noi grazie a te abbiamo un bel po' di cose da parlare oggi abbiamo un bel po' di cose quindi direi direi che non perdiamo tempo e subito dopo non poteva non essere qui con noi ovviamente l'altra l'altra parte come posso chiamare l'altra parte del cielo di ovvero Michele Foschini ciao Michele buonasera tra l'altro Michele hai questo accostamento di colori che in me Vicentino suscita delle debolezze l'ho fatto per questa giornata perché era per essere aziendale per voi sei estremamente aziendale no aspettate sono con due veneti che si sono entrambi tagliati i capelli io vi odio però io mi sono tagliato i capelli ma mi sento ancora in modalità castaway perché siccome sono in ufficio da solo dal 24 febbraio parlo con gli oggetti quindi non ho non ho insanguinato un pallone ma ci manca poco partiamo proprio da questa cosa allora ragazzi allora è stato un momento difficile per l'editoria italiana tutta l'abbiamo detto diverse volte sia dal punto di vista ovviamente dei singoli punti vendita di quindi tutta quella che è la rete vendita librerie fumetterie eccetera anche le stesse edicole che pur sono riuscite in qualche maniera a tenere aperto è stata una cosa difficile per i distributori è stata estremamente difficile anche per gli editori in particolare insomma tante attività non si sono fermate anche se l'uscita di certi fumetti è stata spostata nel tempo la gente poi ha lavorato chi doveva creare i fumetti li ha creati i fumetti sono stati tradotti impaginati prodotti anche in alcuni casi e io vorrei partire proprio da questo insomma come avete vissuto questa questa esperienza che è inedita per tutti nessuno era preparato noi siamo a casa da un sacco noi essendo comunque nel siamo un po' nella zona nel cuore palpitante della della pandemia quindi noi siamo a casa da un sacco di tempo è stata cos'era ieri erano due mesi? tre? erano tre erano tre mesi quindi è stato all'improvviso quando è iniziato a chiudere la Lombardia noi abbiamo iniziato a lavorare tutti da casa che è un incubo che è un maledetto incubo poter cioè non avere il riscontro della redazione non poter lavorare tutti insieme soprattutto facendo fumetti quindi anche solo la correzione di bozze le cose semplici del lavoro sono sono molto sono un lavoro molto più lungo e abbastanza e più stancante rispetto al solito ecco dal punto di vista redazionale sono d'accordo in parte nel senso quello che è più difficile è la catena delle decisioni perché per esempio ogni volta che un nostro collaboratore manda una mail legata a temi commerciali per esempio che richiede assimilare il testo fare una riunione almeno virtuale per discutere le possibili risposte generare la risposta è ciò che di solito facciamo in cinque minuti con uno che ti butta una mail dicendo mi dici quando posso venire cinque minuti da te e in quei cinque minuti programmati hai fatto tutto per cui questo si è molto dilatato io vorrei produrre una t-shirt cinica di piantiamola con queste video call non avevamo comunque niente da dirti perché io vorrei dire con fierezza e mi dispiace da morire se qualcuno si sente colpito da questo sono tre mesi che non rispondo al fisso della redazione non l'ho mai fatto in vita mia e non comincerò adesso smettetela di chiamare però è vero è stato più complicato soprattutto Caterina gestisce il team di comunicazione discutere di come parlare con i media le strategie da implementare cose che non riguardano necessariamente la crisi però la crisi del momento che però vanno discusse vis a vis loro fanno delle riunioni lunghissime ogni settimana che a me paralizzerebbero e adesso cominciano a essere ora che tra un po' non sarà più necessario sono bravissime all'inizio è molto traumatico lo so perché poi me lo dicevano tutto si è fermato quando c'era anche un sacco di roba che dovevo cioè noi avevamo pronti i libri c'era Cartoon Mix mamma mia lo so bene cioè a un certo punto niente poteva più uscire il nostro magazzino il nostro distributore che ha messaggerie ha smesso di lavorare anche lui quasi subito e quindi anche noi ci siamo ritrovati a i libri che erano già stampati e che quindi non potevano uscire e b comunque dovevi iniziare a lavorare tutti i libri che dovevano uscire nel periodo dopo e li dovevi lavorare ma tante volte alcune cose le abbiamo ancora mandate in stampa le abbiamo lavorate ma non le abbiamo mandate in stampa altre sono andate in stampa però non sapevi mai quando sarebbero arrivate perché comunque era tutto un ingranaggio che doveva andare quindi è stato abbastanza è stato pesante soprattutto quando cioè ogni volta c'era il nostro commerciale che ci diceva forse ricominciamo a distribuire di quel giorno ma non lo sappiamo quindi era sempre rimandare e anche cercare di prevedere cosa sarebbe ma non abbraccio virtuale a Simone perché lo comprendo lo capisco però ho detto una cosa che la sola cautela che abbiamo applicato in termini produttivi è stata quella che questi due questi due rettangoli rappresentano appunto Caterina all'ufficio comunicazione i rapporti con l'esterno io sono quello che si è sicura che li vengano fatti diciamo operativamente quindi il ruolo più operativo esatto ci siamo posti il problema di non far uscire in mezzo a una crisi anche appunto di comunicazione e di flussi le opere degli esordienti che avevamo calcolato di far conoscere al pubblico mediante presentazioni e fiere per cui quelle sono le sole vere cose che abbiamo rimandato per proteggere le opere sono fiero di dire che noi abbiamo spostato in tutto tra 12 e 14 libri all'anno prossimo ma nessuno di quei libri è cancellato intanto cioè non c'è niente che per questa situazione va buttato nel secchio dell'umido e nella maggior parte dei casi si tratta o di spaziare un po' di più certe uscite seriali perché comunque vengono a mancare due mesi sull'anno e io scherzo sempre sul fatto che i soli due mesi che potresti perderti per il calendario delle uscite sono agosto e dicembre in cui non esce quasi niente invece quelli ce li lasciano ci sono mangiati un pezzo di marzo tutto aprile un pezzo di maggio allora io questo posso solo dire che in particolare ci sono alcuni vostri artisti che io mi sono un po' coccolato nel corso di questi anche anni in realtà perché per esempio un ragazzo come Lufio che è un grande anche tra l'altro follower del Trono del Re effettivamente mi ricordo era era brutto poter immaginare che stai lavorando ad un fumetto da tanti anni e ti capita di uscire che sei nel mezzo di una pandemia mai successa prima nel mondo qui intanto vi sto mostrando la recensione che potete trovare proprio in home page su Lega Nerd così come magari tanti attendevano anche la conclusione della saga appunto di Capitano Artiglio con Kids with Guns eccetera vorrei tornare su una piccola cosa poi vorrei che fosse approfondito proprio la questione anche della rielaborazione del piano editoriale che di fatto è la cosa che più ha fatto esplodere i cervelli di tutti perché ve la butto lì vediamo se mi venite dietro c'è stato un momento in cui oggettivamente nell'editoria dei fumetti sembrava che qualsiasi scelta si facesse comunque fosse sbagliata a prescindere non voglio sembrare polemico però mi rendo conto che è difficile accontentare tutti però io sono stato un grande sostenitore insieme poi a anche tanti miei colleghi del salviamo le fumetterie una cosa assolutamente legittima assolutamente importante invitando le persone semplicemente sensibilizzandole dicendo anche ragazzi Amazon non fallisce se domani non comprate un fumetto su Amazon una fumetteria non è detto che stia proprio bene ma lo stesso discorso si fa sulle librerie devo ammettere che non ho sentito tanti cori levarsi per salviamo gli editori non ci sono mai e non è che nel senso siano stati proprio dei momenti così ecco meravigliosi no? guarda Giovanni un editore normalmente non dovrebbe avere bisogno dovrebbe avere bisogno di essere salvato in una circostanza normale se sta facendo bene il proprio lavoro e non è in un momento di particolare difficoltà però quando si ferma tutto bisogna ricordarsi che l'editore è l'unica entità che si sobbarca all'intero rischio di impresa perché per dire una figura più a valle nella filiera una qualunque può decidere di non credere in una cosa che fa un editore e quindi non investirci non ci spende non ci guadagna però non ci spende l'editore quando stampa un libro lo fa perché ha fede nel fatto che incontrerà abbastanza persone che lo compreranno nel momento in cui è quasi impossibile comprare i libri ti dico anche che a un certo punto la stessa Amazon ha dirottato tutta la forza logistica sui beni essenziali e lo ha fatto davvero per esempio se tu cercavi un libro di zero calificare è vero questa cosa era ad alto rischio di ordine quindi li hanno azzerati privandosi anche di guadagno per non sentirsi mai dire che per mandare a casa di qualcuno zero calcare non avevano mandato guanti o detergenti per esempio quindi paradossalmente se prendi cioè un giorno Caterina ha detto se voglio un fanco me lo mandano subito se voglio altre cose no allora sul fanco io non ho verificato però ti posso garantire che le cuffie da gaming quelle erano disponibili in due giorni lavorativi ma Giovanni tu non vuoi mica che la gente impazzisca a casa il motivo per cui si poteva andare a comprare da fumare le sigarette è che prova a vedere uno che gli hai tolto le sigarette dopo una settimana altro che femminicidio per cui tutto quello che in qualche modo era ludico era di prima necessità non tutti i libri lo erano infatti c'è stata un'esplosione del digitale in queste settimane ecco questa è una cosa interessante anche se se mi permetti una nota qui sì io è una cosa che dico veramente tanto da tanto tempo l'ho messo anche su su un articolo lungo che ho fatto con su Lega Nerd in Italia tendenzialmente nonostante sembri sembri esserci una grandissima passione necessità legata alla lettura si legge molto meno di quello che si dichiara a volte è più bello dire di amare i libri che non leggerli veramente ci sono tantissimi libri ma non parlo di fumetti parlo anche di narrativa che non arrivano neanche a 500 copie e ci sono delle realtà purtroppo che veramente fanno a volte dire che purtroppo si stampa troppo o si stampa in una maniera forse non sempre del tutto corretta però questo è un altro capitolo però è sembrato realmente che durante la quarantena improvvisamente tutti avessero assolutamente bisogno di leggere un fumetto una cosa che in altri periodi dell'anno in condizioni normali ho capito che certe situazioni di crisi aumentano la percezione di certi bisogni però ogni tanto adesso hai capito quando i nonni dicevano quando i nonni dicevano ci vorrebbe una bella guerra era questo che dalle nostre parti lo dicevano spesso lo dicono tuttora in realtà vero Michele sì allora sentite passiamo un po' a quella che è stata anche la politica di di Baw Publishing cosa avete fatto concretamente proprio anche come iniziativa avete anche aderito visto al progetto fumetterie.com quello a sostegno delle fumetterie organizzato da Money Comics avete anche prodotto dei gadget un po' come vostra diciamo anche tradizione avete fatto degli eventi live vi siete dati ad una comunicazione veramente bulldozer bravi complimentoni perché veramente siete stati ti ho visto Michele live con un po' di autori anche stranieri ho visto anche Caterina collegata anche su Instagram per me è stata una cosa ma una cosa di bastante cioè per me non è proprio non è nel mio carattere fare una cosa del genere quindi a un certo punto è ovvio che abbiamo cioè io ho iniziato con Alessandro Baronciani perché era un mio amico e ho detto lo facciamo così ci divertiamo e poi è andata avanti così perché era ovvio che bisognava era bisognava rimanere in contatto con i lettori ma anche una gran bella maniera se mi permetti poi io rappresento la categoria quindi di quelli che non ho fatto altro che fare dirette quindi capisco però secondo me è stata una bella maniera per mostrare anche un certo tipo di contatto guarda devo dirti che alla fine mi sono divertita ma perché avevo la cioè magari non mi viene da da videochiamare con Baronciani tutti i giorni o con Giulio Maccaione o con Flavia eccetera però anche solo aver la possibilità di vederli ogni tanto era cioè anche per la mia sanità mentale per per tenere le fila del discorso per di tutto quello che facciamo poterli vedere è stato è stato bello è stato divertente e mi è piaciuto insomma però è stata una cosa da emergenza proviamo a far cioè facciamo qualcosa per la sanità mentale di tutti quindi sei del club stop live no 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 però è ovvio che quello che ci dicevamo anche l'altro giorno con Chiara e Daniela che si occupano della comunicazione era cercare era ovvio che durante la quarantena se lo facevi alle 4 del pomeriggio avevi potevi raggiungere un pubblico abbastanza vasto il problema di adesso è che comunque era cercare di capire gli orari le cose qual è la risposta che comunque sarà diversa e sarà anche un altro modo di parlare rispetto a quello che era durante la quarantena ecco nel frattempo io sto sfogliando il vostro preview il 52 quello di aprile che poi di fatto si è modificato ma un po' come tutta quella che è stata la parte dei cataloghi diciamo ha avuto necessariamente delle modifiche mi piacerebbe chiedere a voi a questo punto un attimino ecco che cosa è successo quali sono state le modifiche principali quali sono state anche gli spostamenti che si sono rivelati necessari avete pubblicato la settimana scorsa la nuova edizione di Cobane Calling settimana scorsa sì era il primo lancio possibile dal nostro distributore perfetto era settimana scorsa non mi sbaglio giusto? il 14 ah il 14 quella prima ancora guarda Giovanni il primo tipo di cambiamento è stato legato al fatto che mancavano le uscite quindi bisognava capire appunto come nel caso di Cobane Calling oggi o di Viola Giramondo di Radice Turconi dove piazzare delle cose molto attese alla prima occasione utile quindi il problema era quando si ricomincia e quando l'abbiamo saputo le abbiamo subito schedulate in quel modo dopodiché abbiamo dovuto spaziare un po' le cose che si stavano accumulando perché calcola che il giorno che non era più illegale non avere un cane se eri fuori casa noi avevamo 11 libri pronti da far uscire e non è normale avere 11 libri in magazzino già stampati tutto già stampati lavorati durante la quarantena durante il lockdown e quindi questa è stata la prima cosa dopodiché abbiamo dovuto renderci conto che saremmo andati nel cuore dell'estate con quelle che sarebbero state normalmente le uscite della primavera per esempio noi contavamo di far uscire il libro il mare verticale di Brian Freschi e l'aria urbinati che è un libro sul quale non c'è una grande attesa concettuale perché gli autori non sono notissimi ma è un libro che è venuto così infinitamente meglio di quello che ci aspettavamo che sappiamo che tra i titoli italiani che facciamo quest'anno merita molta attenzione doveva uscire a maggio doveva uscire a maggio per il salone di Torino che non c'è stato la prima occasione utile è diventata luglio che normalmente quando devi portare la gente in libreria è un mese morto invece in questo caso che in libreria non ci puoi andare a fare gli eventi diventa un mese assolutamente analogo al precedente o al successivo ovviamente io auguro a tutti di riuscire ad andare al mare quando lo vorranno però comunque il calendario commerciale si è espanso per esempio messaggerie fa comunque due lanci ad agosto per cercare di respirare cosa che non era mai successa certo esatto quindi cerca di fare uno in più rispetto al solito per recuperare un pochino delle cose che si sono perse nella primavera che abbiamo passato tutti chiusi in casa quindi questo è stato il primo tipo di cosa in altri casi abbiamo rimandato ulteriormente però semplicemente facendo un sacrificio su certe serie spaziandole di più e lì sappiamo che c'è chi ci c'è chi ci dice come non doveva uscire ogni tre mesi ne sono già passati quattro e mezzo ma questo è un retaggio dell'andare in edicola se non uscisse per un mese e mezzo o un mensile ti preoccuperesti che l'editore abbia chiuso noi in realtà a volte proprio per ottenere la giusta attenzione su una serie specie se nuova ci prendiamo di imperio un po' di tempo in più in questo caso è necessario perché non si poteva andare in libreria quindi anche il tempo di propagazione del passaparola sui titoli si è allungato stai facendo riferimento a titoli come per esempio non so Gideon Falls solo perché mi è capitato proprio Gideon Falls in realtà aveva una data precisa che abbiamo bucato Gideon Falls 3 ci è arrivato a magazzino la settimana scorsa ma siccome giugno che sarebbe stato il suo mese è diventato pieno di altre cose che venivano da prima esce a luglio però in realtà è un cambiamento molto modesto anche perché calcola che il volume 4 non esiste ancora in America quindi non è che dobbiamo correre all'inseguimento di qualcuno viceversa per esempio avevamo avuto un rallentamento forte dovuto a burocrazia straniera su The Wicked and the Divine e allora lì ho imposto ora che la cosa sia sbloccata ho imposto dei ritmi forzati e noi tempo agosto avremmo fatto tre volumi in quattro mesi praticamente ma perché volevamo dimostrare che c'era stato un tappo e non una volontà nostra prendevamo le parolacce sui social perché avete lasciato cadere la serie invece no c'era un problema tra il licenziatario europeo che lo dà ai paesi europei e l'agente americano degli autori che non si parlavano per errori tra l'altro e però non puoi andare a raccontare proprio tutte le trame i problemi erano due perché noi abbiamo due problemi del genere adesso con Wicked è risolta il secondo è Dottor Andromeda che arriverà però è un purtroppo però questo non se ne fa neanche una colpa tante volte al lettore perché ci sono delle cose intanto ciao Cristian e poi arriviamo anche a leggere il commento c'è anche un aspetto che magari non tutti possono conoscere parlo soprattutto dal punto di vista dei lettori ve ne accorgerete ve lo dico amici lettori amici appassionati di fumetto perché c'è stato un pencil down in America quindi alcune serie che voi magari aspettate tra qualche mese tra magari sei mesi non è detto che arriveranno in tempo perché alcune serie sono state bloccate è stata bloccata addirittura una produzione Marvel DC con proprio il pencil down che è una cosa che Michele boh tu sei un esperto quante volte sarà mai successo un pencil down in America guarda io sono lettore di fumetti americani regolare molto infogliato del tema dal 1900 è grossa come io non l'avevo mai sentito sinceramente di una situazione perché era successo pre-social però c'erano state delle agitazioni tardi anni 90 primi anni 2000 faccio un esempio il progetto Black Label di Wonder Woman e di Daniel Warren Johnson il numero nuovo che doveva essere se non ricordo male il quarto non è stato disegnato è stato disegnato solo molto dopo è stato ricominciato molto dopo quindi fondamentalmente si è accumulato due mesi di ritardo due mesi di ritardo a cui ci sono i tempi di traduzione i tempi di spostamento nonché il cambio di editori italiano eccetera eccetera ragazzi cioè attenzione succederà questo e non ve la potrete prendere con gli editori perché no credo che i cambiamenti in corsa sui progetti fatti vanno motivati sempre in maniera molto chiara e molto onesta in questo caso il tentativo è tenere proteggere i titoli perché se per la fretta di crocettare una mancolista noi di un collezionista noi non diamo il tempo ai libri di farsi vedere di farsi conoscere di farsi trovare specie in questo momento in cui molti ancora non vanno nei negozi perché succede c'è ancora una giusta paura di fare le cose come se non fosse successo niente mi sembra corretto che sia così dal punto di vista umano se non spaziamo un po' le uscite ci facciamo del male e sono d'accordo mi permetti di leggere questo commento poi se vorrei rispondere tu o vorrei rispondere Caterina poi questa cosa la voglio approfondire Papa dice una live però fatta dagli editori e dagli autori barra disegnatori ti avvicina molto di più al pubblico che poi appunto verrà a comprarti molto più che una fiera o un comics dove per ovvi motivi centinaia di stand migliaia di persone spazi piccoli non si riesce a fare e potresti passare inosservato con un prodotto che in realtà potrebbe essere ottimo cosa ne pensate in questo punto di vista voi che in fiera siete molto a contatto sei bravo non passare inosservato no secondo me sono due cose che in un mondo ideale e nel mondo post tutto questo conviveranno e secondo me aiuteranno aiuterà tutti ovviamente la scelta quella dettata dalla necessità è ovvio che non si poteva fare nient'altro però penso che a un certo punto soprattutto per gli autori quelli che magari sono abituati sono già al primo sono già al secondo al terzo libro il contatto con con alle presentazioni alle fiere con il lettore quello sarà una botta abbastanza grossa che sono certa che quella sarà quando ce ne renderemo conto sarà un po' sarà molto brutto proprio per gli autori secondo me perché non potranno avere il contatto il contatto uno a uno della persona del tuo lettore della persona che ti scopre sul momento della persona a cui puoi raccontare il libro quello quello sarà sarà problematico anche perché ti sembrerà che il libro a parte io lo so che è bello fare tante anche io le seguo fare live eccetera però il contatto il contatto uno a uno è abbastanza insostituibile secondo me in questo in questa cosa e il fatto di avere che abbiamo un futuro in cui potremo fare entrambe le cose secondo me aiuterà tutti ecco questo questo sicuramente quello che ci preoccupa della potenziale assenza di qualunque fiera quest'anno non è l'ammanco di fatturato anche se adesso metto un asterisco su questa cosa è proprio l'assenza dell'esperienza umana noi quando facciamo le fiere grosse non siamo quelli che marginano di più perché facciamo molti gadget spendiamo di solito per lo stand portiamo ospiti che spesso non si pagano però ci teniamo le persone perché questa cosa ti dà un ritorno più a lungo termine e quindi il fatturato si può sostituire quello che non si può sostituire in realtà è proprio il contrario di quello che diceva il tuo spettatore un momento fa di cui non ricordo il nome Roberto perché in realtà eccolo qua perché ci sono degli acquirenti occasionali proprio i passanti che a volte ti comprano una cosa che non stai promuovendo in quel momento ma un titolo che hai a catalogo da un po' per cui se io dovessi fare l'esercizio devo vendere quasi lo stesso numero di copie delle novità dell'autunno che avrei venduto a una lucca se non ci dovesse essere forse posso affrontare questa sfida mentre se dovessi cercare di vendere tutti i titoli che avevo già e che metto sul tavolo a chi passa e scopre Bao perché ha visto la forma dello stand quell'anno quelli non li venderò ovviamente per cui potrò proteggere le novità di quella stagione ma non l'identità del mio catalogo in quel momento quella è una cosa di scambio umano e sociale con chi passa a trovarti e trova simpatico il tuo team piacevole il tuo stand gli piace il colpo d'occhio del mix di prodotti e a volte compra una cosa che hai fatto anni fa per esempio guarda Federico secondo noi delle fiere si riparla quando siamo quasi pronti al vaccino secondo me la cosa più facile saranno magari le presentazioni se riuscirà in qualche modo a gestire le presenze boh scaglionate o comunque in qualche modo ma non lo so le fiere mi sembra dalla Lombardia io ho solo una nota da fare da questo punto di vista e lo continuo a dire è una battutaccia però in realtà è efficace per quanto il mio desiderio di vivere in fiera sia notevole sapete quanto io insomma sia legato proprio al mondo delle fiere e a quanto ci lavoro insieme a tanti si hanno rinviato le olimpiadi ma che te fanno Luca Comics cioè nel senso da un punto di vista ma io sto immaginando anche un evento un in store legato a zero calcare è veramente impensabile in questo momento col numero di persone le centinaia le migliaia di persone che si mettono in fila e che non è che puoi fare quattro isolati di fila in mezzo alla strada no lo facciamo senza distanziamento per cui ecco lo giusto giusto quindi purtroppo Federico è ad avercela la sfera di cristallo per una cosa del genere sappi solo che Comiket scuso solo c'è Comiket e San Diego Comic Con che sono le due più grandi fiere al mondo insieme a Luca Comics che si sono già attrezzate per fare degli eventi digitali si parla già dei panel completamente online del San Diego Comic Con quindi si può immaginare la cosa più importante noi non vogliamo dire questa cosa noi non siamo organizzatori di eventi ci mancherebbe quello che voglio dire è preferiamo è più sano pensare come se non ci fossero perché francamente ci siamo detti che è molto meno doloroso se succede uno di questi eventi doverlo organizzare più rapidamente del solito perché abbiamo la vero vero assolutamente vero assolutamente vero se hai previsto che ci sia quindi operativamente la mia risposta è per me non ci sono per un anno e mezzo poi nel momento in cui questa cosa comincia a diventare praticabile è una cosa che facciamo da un decennio quindi non sarà difficile dire ah ok ritorniamo a fare le fiere normalmente è più una forma mentis perché visto che nessuno salva gli editori o li difende se non si difendono un po' loro da soli limitando sprechi e soprattutto limitando di mettere tutte le uova nello stesso paniere che poi viene rotto dalle aspettative infrante quindi questa è la cosa più importante poi capisco che per molti sia grazie Federico che apprezzi capisco che per molti sia anche una questione di organizzarsi immaginate noi che di solito portiamo 45 persone da tre continenti è tosta organizzarla all'ultimo però infatti preferiamo pensare che non ci siano gli eventi ma che piano piano sempre ibridando il virtuale e il reale si tornerà prima andare in libreria poi a eventi pubblici magari all'aperto e poi torneremo a poterci riunire oltretutto non siamo un popolo molto disciplinato come ci sta raccontando la cronaca di questi giorni al punto che per due veneti il fatto che abbiano demonizzato lo spritz è un dolore forte bravo bravo Michele diglielo sono d'accordo su tutto però lo spritz non ha potere curativo no non ce l'ha non ha potere curativo e posso dirti anche che ho perso completamente smalto quindi se adesso ne bevo due sono uno sputnik in orbita praticamente quindi per noi a livello pratico è più utile pensare in questo modo e capire cosa ci è venuto di costruttivo da questa costrizione in questo periodo Caterina ha detto benissimo molte cose hanno un futuro noi questa chiacchierata non l'avremmo fatta fuori da questo periodo perché non ci sarebbe non ti sarebbe venuto in mente di chiamare così tante persone per avere una panoramica così ampia non per dire che non avresti invitato noi ma magari non ti saresti scervellato per inventarti così tanti anzi anzi in questo momento 25 maggio io sarei nel pieno del collo di bottiglia di quell'imbuto che si crea sempre dopo il Comic Con e dopo Luca Comics di tantissime uscite quindi sarei rimasto sepolto dalle uscite a fumetti perché il mondo dell'editoria a fumetti è molto lucca centrica e diciamo evento centrica mettiamola così ok di conseguenza in questo momento io sarei stato sotto con le recensioni e questo è un dato di fatto che forse questa cosa della quarantena anche l'assenza potenziale di eventi o quantomeno lo spostamento di tanti eventi potrebbe modificare qualcosa nell'assetto editoriale dei vari editori e questo forse si sta già vedendo anche tu cosa dici Michele? per chiudere la parte apocalittica ti dico che noi dobbiamo alleggerire io penso che sono anni che dobbiamo alleggerire un po' il piano editoriale e questa volta abbiamo dovuto farlo per forza per i motivi di cui sopra di protezione dei titoli e del loro benessere e del loro potenziale una cosa che ci ha insegnato questo periodo non è che siamo tutti uguali tutti uniti perché è un po' effimera conosco la gente però che la fretta non ha nessun senso cioè il mondo non è a piena velocità quindi perché dal momento in cui ti lasciano tornare in ufficio devi correre come prima dove corri? metà dei posti dove puoi andare non ci puoi andare o sono ancora chiusi quindi non ha senso sto dicendo di vivere come un frate benedettino o cose del genere perché non è neanche da me però dare più spazio tra le cose rifletterci di più e approfondire di più secondo me è molto utile questa cosa dovremmo tenercela io verso la fine del lockdown dicevo urbi e torbi dalla mia piccolissima platea visto che non ho pretesa di avere un pubblico segnatevi due o tre cose piacevoli pur nella paura e nelle limitazioni che non pensavate che avreste fatto e che avete fatto in questo periodo provate a tenervele queste buone abitudini perché magari vi servono dopo se riusciamo a perché per noi era già una pulsione quella di congestionare un po' il piano però poi per un motivo o per l'altro si aggiungeva sempre qualcosa di più per cui il numero non era mai quello comodo che volevamo ma non siamo neanche i primi nel senso che in America già hanno cominciato a farlo Image ha già sottigliato già da tanto tempo ormai il piano editoriale stiamo parlando di Image Comics intendo quando pubblichi tanto di più vuol dire che mediamente i tuoi titoli vendono meno per titolo perché i soldi in tasca sono quelli della gente certo a meno che tu non stampi libri e soldi ma questo avrebbe qualche problema con l'inflazione noi pensiamo di trovare noi pensiamo di trovare nuove persone che leggano i libri quindi da questo punto di vista non cerchiamo di ridividere sempre la stessa torta vorremmo che la torta di lettori crescesse per cui questa è la nostra speranza ma in ogni caso se pubblichi tantissimo vuol dire che stai inseguendo la linea del fatturato infatti gli editori europei più preoccupati nel fumetto sono quelli francesi in questo momento che erano già nel pieno della situazione 6.000 novità all'anno in libreria perché vendono sempre meno a titolo e a loro togliergli il 20% delle uscite dell'anno vuol dire togliergli il 20% del fatturato noi abbiamo l'obiettivo non so se lo raggiungiamo di avere un fatturato paragonabile a quello dell'anno scorso ma effettivamente con quasi il 20% dei titoli in meno però per come lavoriamo noi è fattibile nel senso parliamo di fumetti allora Michele mi piacerebbe proprio sentirvi parlare di fumetti non che non l'abbiamo fatto fino adesso però adesso siamo stati un po' sulla parte generale quindi con te Michele con Caterina vorrei proprio parlare di fumetto innanzitutto se si può sapere guardando anche con il catalogo alla mano io adesso ho questa schermata ma perché il titolo di Brandon Fletcher è un titolo a cui tengo particolarmente Isola è un titolo estremamente interessante lo sto aspettando lo sto aspettando da un bel po' sarebbe dovuto uscire credo adesso tarda primavera adesso è di fatto a luglio ecco esatto lo sto aspettando veramente da un bel po' ma è solo per fare un attimino così un punto poi partiamo da dove volete per capire anche se volete dircelo quali sono quei titoli che in qualche maniera sono andati a spostarsi un po' più in là del tempo magari qualcosa che avevate già annunciato ventilato ma che fino magari all'autunno o cose del genere non potranno magari uscire e invece qualcuno che è in uscita prossimamente e guardate che cari ascoltatori due sbadigli ed è luglio ve lo dico cioè nel senso sembra sembra ieri che ci siamo tolti il cappotto però effettivamente i 28 gradi di oggi fuori parlano abbastanza chiaro quindi anche per esempio Isola che uscirà a luglio è veramente ormai prossimo prossimo all'uscita probabilmente ce l'avete anche già in casa non lo so magari ecco secondo i tempi normali dell'editoria più o meno effettivamente è così io adesso ho questo numero di preview qui c'è un bel po' di roba qui avete messo anche la bella anteprima di Isola Laura Dean continua a lasciarmi ho visto le nuove le ultime novità Isola esce la settimana prossima però settimana prossima Isola 4 giugno appena controllato sei sicuro perdonatemi perché è riportato sul catalogo di che catalogo è questo catalogo di luglio luglio 2020 sì ma stiamo facendo dei recall dei titoli in uscita per cui ti ha fregato per questo mi ha fregato perfetto anche Laura Dean esce la stessa settimana esatto perfetto ragazzi segnatela una bella ha fatto la figura di palta quindi ma no in realtà guarda questo è proprio uno dei singhiozzi del momento abbiamo deciso di fare più riproposte sui cataloghi finché non ci sincronizziamo un po' con questo nuovo calendario che ci è stato imposto dallo stop e quindi di solito cerchiamo di essere abbastanza accurati ma in questo caso era impossibile quindi abbiamo fatto delle highlight di titoli in arrivo tra giugno e luglio ed era l'unico modo per farlo beh allora possiamo partire proprio da Isola di Fletcher visto che è prossimissimo beh allora innanzitutto prima parentesi è uscito la riedizione di Cobane Calling quindi una riedizione nuova del best seller di Zero Calcare con quel capitolo che era uscito originalmente solo sul messaggero se non sbaglio internazionale scusate e in più con qualche anche correzione qualche più che correzione qualche adeguamento temporale visto quello che è successo poi ma infatti essendo cioè quando abbiamo pensato questa edizione è stato proprio perché comunque Cobane non può essere un libro immobile come che puoi continuare a ristampare un po' come gli altri perché la storia di Cobane ma c'è un sacco di gente che ha scoperto tutta la faccenda siriana del Rojava proprio leggendo Cobane il problema era che era cristallizzato in un certo momento quindi con Michele con Michele Zero abbiamo discusso abbiamo detto serve fare una mini cioè una prefazione che raccontasse qual è la situazione oggi infatti Cobane Calling l'abbiamo chiamato oggi proprio per dargli un'idea temporale poi ovviamente abbiamo aggiunto la storia di Lorenzo Orsetti perché era molto bella e completava un pochino la la parabola quello che che racconta in Cobane Calling ecco non sarebbe stato possibile probabilmente a fumetti andare avanti perché Michele non è non ha più avuto un'esperienza diretta in Kurdistan come è stata con Cobane Calling però era importante non avere un qualcosa che se uno se lo legge adesso dice sì ok questa storia però a un certo punto finisce io non so che cosa è successo dopo e volevamo dargli un'idea un pochino di quello che che è successo appunto negli ultimi anni ecco quindi questo questo fumetto è uscito il 14 di di maggio tra l'altro siamo per il film perché era in classifica era quinto in varia settimana scorsa quindi che strano è strano vero proprio strano 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 io ho avuto modo settimana comunque con questa roba del rebibia quarantine di Michele lui è l'unico che riesce a mettersi a trovare nuovi fan durante la quarantena quando nessuno può comprare beh no ti sei dimenticata di Leo ti sei dimenticata di Leo scusami ti sei dimenticata di Ortolani e Ortolani ha raddoppiato i propri follower durante la quarantena raddoppiati guarda la televisione è devastante noi non ce l'avamo cioè anche lui non aveva idea e la televisione è veramente una cosa gli italiani hanno riscoperto la televisione tu pensi che sia una roba abbastanza immobile e fatta per persone magari un pochino più agé mettiamola così invece non è eccezionale allora agé va bene mi piace questo termine intanto salutiamo intanto Alpo che dice che gravi ne parliamo ne parliamo perché Ondat è sicuramente uno dei titoli che attendo di più del catalogo BAU quindi esce al momento in cui era previsto ecco questa è già una buonissima cosa intanto continuiamo qua allora ho già parlato la settimana scorsa di Viola Giramondo la riedizione appunto del primo graphic novel di Turcone Radice bellissimo meraviglioso non vedo l'ora di farlo leggere un giorno a mia figlia devo essere sincera un piccolo gioiellino che sono molto felice di aver potuto anche rileggere Il Cubo di Mille Mondi è già uscita la recensione l'esordio di Lufio personalmente un grande esordio bravi bravi BAU che l'avete subito beccato so che Caterina sei stata tu ce l'ha detto proprio Lufio in diretta quella volta che sei stata tu a beccarlo proprio io lo scrivo su Instagram a un certo punto e ho detto guarda sei troppo bravo se mai avrai una storia scrivici e così è iniziata è iniziata la storia del cubo fantastico sono veramente contento ragazzi leggetevi ovviamente la recensione è un gran bel esordio un fantasy con tanti richiami il J fantasy quello dei cieli di Escaflone quello di Final Fantasy quello di Breath of Fire quindi veramente c'è un'influenza da quel punto di vista che è tangibile ma con un'originalità quella di Lufio che è notevole ma poi più che altro ci pensi che comunque è uno che non ha un background specifico sul fumetto no infatti quello secondo me è devastante cioè ha tutto un immaginario che si è creato da solo e non guarda io sono senza parole su Lufio bene e questo mi rende veramente molto felice eccolo qui Isola vogliamo parlare di questo titolo di Fletcher questo titolo di Mage che è veramente potentissimo veramente è potentissimo è però la potenza ha rilascio molto lento sì il motivo per cui lo volevamo è che Carl Kershaw è uno dei nostri più vecchi amici l'abbiamo incontrato prima di fondare Bao a Toronto nel 2009 assieme a Ramon Perez e a Cameron Stewart quando ci dissero ah voi siete italiani non sappiamo e Michael Cho e Michael Cho sì è vero non sappiamo come venire a Lucca e da allora siamo amici e quindi volevamo qualcosa di suo ma c'è una cosa molto particolare perché Isola è una saga quasi naturalistica con dei tempi narrativi molto dilatati che non è un modo per dire che non succede niente anzi però succede molto lentamente che in un'epoca di narrazione super compressa è una cosa super rinfrescante in realtà ed è estremamente godibile noi abbiamo previsto due volumi quest'anno e tra poco iniziamo la lavorazione del secondo il nostro volume è anche più ricco del primo volume americano perché abbiamo utilizzato degli extra che erano stati creati per l'edizione francese di Urban Comics e li abbiamo adattati quindi a più cose di quello che trova chi compra il paperback di Image tra l'altro gli amici di Image ce lo riconoscono sempre che i nostri cartonati sono un pelo più bellini dei loro paperback come beh questo questo dobbiamo ricordarlo sempre a tutti con tutto il rispetto per quello che ovviamente succede negli Stati Uniti io l'ho sempre detto ragazzi voi dovreste a tutti i lettori dico sempre voi dovreste prendere in mano anche semplicemente uno spillato americano rispetto ad uno spillato italiano c'è una gran differenza sui cartonati poi non ne parliamo non ne parliamo è molto importante perché volevamo soprattutto la resa del colore con una qualità altissima c'è da dire che per tutti i puristi del formato originale americano vorrei che si ricordassero che quel formato non l'ha scelto nessun autore è imposto perché ci sono due tipografie per tutti i fumetti americani sono entrambe in Canada e fanno una sola cosa per cui infatti quando devono stampare versioni oversize o altre cose le fanno altrove se controllate le informazioni nei volumi che avete a casa scoprirete che è veramente così quindi bello è un formato importante è importante rispettarlo però non è una scelta artistica è uno standard è come se chiunque facesse una storia con una gabbia di pagina simile a un albo bonelli dovesse per forza avere a me lì il formato bonelli per dire non è necessario però ci tenevamo a rendere molto bene questa storia perché deve essere un'esperienza molto immersiva infatti le pagine a vivo sono tantissime quelle che vanno proprio al margine della pagina per dare quella sensazione che è quello che fa allo schermo del cinema cioè riempirti tutto il campo visivo Michele a cosa lo accosteresti Isola? per dare proprio un termine di paragone cioè del tipo immaginatevi sai come quando si fa la degustazione di un vino si dice ci sono sentori di lampone di questo tu a cosa lo accosteresti Isola? perché è un'opera veramente molto originale è molto difficile dirlo perché contiene in sé una distopia nel senso che sono tutte le società che sono presenti in Isola sono in decadimento siamo nei postumi di una guerra quindi è una storia post bellica anche del Conan di Miyazaki per dire però con personaggi adulti anche se la società non è strutturata come la società del mondo in cui viviamo noi ci sono chiaramente rappresentate diverse tipologie di identità sessuale per esempio e uno dei personaggi più importanti non dice una parola per tutto il volume ma è estremamente eloquente quindi è una narrazione non tipica e anche gli archi non sono tipici cioè chiude che ti mette voglia del secondo volume ma non chiude con il tipico cliffhanger quindi è veramente un'esperienza fatta per godersi il viaggio e ti solleva ed è disegnato da Dio ed è disegnato da Dio proprio da Dio Karl tra l'altro ama disegnare gli animali perché il suo famoso webcomic l'abominevole Charles Christopher è pieno di animali disegnati in maniera realistica ma che parlano come umani cinici quindi lui è uno di quelli che ama veramente disegnare gli animali è già una bestia rara per questo e devo dire che la scrittura è molto delicata è molto piena di considerazione Brandon è un uomo molto sensibile io l'ho visto in azione parlare con i bibliotecari l'anno scorso negli Stati Uniti e ha una maniera che si riflette molto in questa storia cioè è veramente una persona affettuosa senza essere un emo fuori luogo un emo fuori luogo lui è stato un attore Michele sai che con emo fuori luogo c'è il rischio che ti stai giocando qualche lettore vero? no se uno è emo nella situazione giusta può farlo per me quando è stata toglianta e dovrebbe avere un altro atteggiamento che secondo me magari no però non stavo giudicando in ogni caso è una storia che va veramente fruita per comprenderlo temo che non sia per tutti perché ci sono quei lettori che hanno bisogno di una quantità c'è azione ma hanno bisogno di una quantità di azione roboante molto alta adrenalinica questo non è un fumetto adrenalinico non è neanche riflessivo e c'è un grosso mistero che è tra il politico il sociale e il mistico da dipanare per cui viene tenuta alta la tensione della curiosità del lettore però è un libro nel quale si lasciano succedere le cose che si prende il proprio tempo infatti già quando normalmente ci chiedono quanto sarà lunga una serie spesso non lo sappiamo perché non lo sanno gli autori in questo caso non ho veramente idea di che lunghezza abbiano in testa perché è palese che a un certo punto gli eventi precipiteranno però non hanno fretta di precipitare e quindi non lo so senti per mettere una domanda c'è qualche novità invece per per saga qualcuno Brian K. Vagan Final Staples qualcuno si è rimesso a lavorare sì sono mesi che Brian dice sto scrivendo sto lavorando sto scrivendo e ci credo no no sta proprio scrivendo issues non prendo appunti però evidentemente sta costruendo il vantaggio di Fiona per poter fare gli archi per cui secondo me da qua alla fine dell'anno lo annunciano questa sarebbe proprio una bella notizia Laura Dean continua a lasciarvi Mariko Tamaki bravissima Mariko Tamaki tra l'altro un'autrice veramente che mi è piaciuta tantissimo nel suo ciclo legato a Shulk che io l'ho adorata su Shulk e l'hanno chiusa era tutta quella bella epoca se non ricordo male di Alex Alonso in cui hanno chiuso quelle serie che erano delle serie fighissime però sono tutte durate pochi numeri sei numeri dodici numeri al massimo quando in realtà sarebbe stato necessario qualcosa in più volete dirmi due parole su questo fumetto invece? vai Kate noi abbiamo pubblicato E la chiamano estate che è stato per anni uno dei miei fumetti preferiti che noi abbiamo noi abbiamo 40 titoli sì E la chiamano estate scusami perché a un certo punto abbiamo cementato questo loop di chiamare io proponevo titoli che erano pezzi di cantautorato anni 70-80 per tipo un'estate fa e la chiamano estate eccetera e quindi a un certo punto vado anche un attimo fuori controllo noi abbiamo pubblicato il libro prima che era disegnato con la cugina Gillian che secondo me è un libro pazzesco di come racconta l'adolescenza e qua Mariko continua a raccontare più o meno il passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta un po' il primo grande grande amore del liceo ed è racconta una relazione tossica racconta di queste di questa ragazza che è la un po' la preferita della stellina della scuola che sta con questa ragazza Frederica e questa relazione e lei continua a lasciarla solo che Frederica ci rimane sotto continua a cercarla e a è una sottona e quindi è una storia delicata ma anche abbastanza cruda abbastanza vera ed è disegnata in una maniera devastante perché Rosemary è una storia molto in mood bow ma perché in realtà nel corso del tempo la vostra linea editoriale che ho sempre ritenuto una delle più coerenti sul panorama nazionale è sicuramente molto trasversale perché si passa da saghe incredibili come saga ad opere come poteva essere non so Black Science piuttosto che The Sender eccetera fino a le robe di Baronciani eccetera però ormai si è un po' individuato quello che è un po' il mood bow e devo dire che questo fumetto mi sembra estremamente nel mood bow questa è una bella cosa che si identifichi comunque una casa editrice per la propria attitudine editoriale credo che questa sia una cosa di cui immagino anche andate abbastanza fieri giusto? Permettetemi il love topic guarda la cosa che noi abbiamo bene in testa qual è il libro bow quando ne vediamo uno è abbastanza facile per noi individuarlo e quando magari ho alle fiere oppure anche qualche ci propongono dei progetti diciamo perché è tutto così chiaro non c'entra niente la cosa che ci hai fatto vedere e quindi quando quando una cioè nella mia testa tutti i libri tutti quelli che facciamo dal dal Giappone Corea dagli Stati Uniti all'italiano secondo me possono piacere allo stesso genere di lettore però è ovvio che non è non è così scontato ecco comunque è una cosa che mi ha sempre colpito e mi piaceva dirvelo non so se ve l'ho mai neanche detto no però grazie è un'unico perché ci sta poi guarda col fatto che le scelte editoriali molto spesso coincidono con i gusti di noi due con la mediazione dei gusti di noi due perché delle volte a uno dei due piace una cosa che l'altro dice guarda sarà anche bella ma secondo me o non ci sta o non incontrerà il favore del pubblico la cosa che ci lusinga è che questa identità che nasce appunto sulle cose che ci piacciono ha incontrato veramente il favore del pubblico perché a volte facciamo libri come un anno fa un anno fa giusto è stato Il principe e la sarta di Jan Wang che nella nostra testa è un libro veramente young adult però è piaciuto così tanto che l'abbiamo ristampato nel giro di un mese e mezzo e la tiratura non era piccola comunque quindi questa cosa è siamo un disastro cane da una parte pompieri dall'altra e quindi diciamo questa cosa è estremamente piacevole io adesso vi devo lasciare perché non è una scusa devo chiamare il nostro avvocato che culo bene molto bene no allora sei posto tu il nostro avvocato puoi diventare il nostro avvocato quindi è una delle persone preferite al mondo però dobbiamo avere una cosa di lavoro il che vuol dire che lascerò a Caterina la la di esamina di a ondate oh AJ Dango dobbiamo assolutamente vorrei solo dire una cosa noi abbiamo conosciuto AJ ad Angulem Caterina ti può raccontare sì ma io ho una metto una nota autobiografica anche se non frega nessuno io ho il terrore delle grandi masse d'acqua infatti non so nuotare perché mi viene il panico siccome nel libro AJ dice e lui fa surf ma è partito nella mia stessa condizione in teoria dovevamo vederci a Los Angeles dopo il Comic Con di quest'anno e lui aveva promesso di insegnarmi a nuotare prestandomi una muta e una tavola e io gli ho detto io te lo lascerò fare è tutta la vita che resisto a questa cosa quindi la cosa più grossa che ho perso in quest'anno è che neanche quest'anno imparo a nuotare no 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 qua non è chiara una cosa io in undici anni non sono mai riuscito a portarti al mare e arriva un autore e ti dice ti insegno a nuotare tu subito ma è un surfista Caterina esatto non puoi dire di non surfista ciao a tutti Michele grazie di essere stato con noi grazie grazie mille allora Caterina siamo io a te adesso eccoci grazie Giovanni ciao grazie allora guarda facciamo una cosa del genere oh no non mi piace è troppo ravvicinato è più bello così c'è più aria ma poi si vedono le librerie è brutto io ho questa passione qua di guardare la Lily Gruber e guardare cosa hanno le librerie le persone dietro di lei quindi non non togliermi io faccio fatica cosa c'è Scott Pilgrim dietro? è una è una statuettona di Ramona Flower ok perché purtroppo non riesco a vederlo perfettamente però continuiamo un attimino allora non andremo poi a toccare tutti quanti i titoli per carità perché dimmi solo però Laura Dean continua a lasciarmi quando uscirà? uscirà la prima settimana di giugno perché noi abbiamo questa cosa ci piace celebrare il Pride ogni anno con un libro diverso l'anno scorso era con il Principe e la Sarta quest'anno sarà Laura Dean ed è un po' il nostro modo di cercare di purtroppo non potendo immagino scendere in strada quest'anno avremo degli altri modi per celebrarlo bravi una cosa a cui teniamo molto di avere un libro del Pride all'anno ecco brava questa è una cosa che mi piace estremamente ragazzi tanto lo sapete insomma i libri Bao sono sempre arrivati al Trono del Re quindi ne parleremo ne parleremo assolutamente molto nel nel dettaglio allora a questo punto noi stavamo guardando la preview 55 se non sbaglio a questo punto andrei a vedere invece questo famoso libro di AJ Dango lo faccio vedere a tutti quanti allora un attimino datemi il tempo di sistemare la regia così eccolo qui così ce ne puoi parlare perché è un libro particolarmente atteso probabilmente qualcuno di voi non l'aveva ancora sentito nominare magari l'autore non gli dirà niente ma c'è una storia sotto a questo personaggio che è veramente molto molto interessante prima di tutto da una parte c'è un mini un collegamento nerd che magari uno non gli sfugge è che AJ è l'assistente di James Jean che ha fatto per anni le copertine di Fables ed è anche un artista straordinario e lui lavora proprio nell'atelier di James Jean e questo non lo sapevo e questo non lo sapevo e già grazie che me ne hai data una così me l'hai servita bene 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 quindi di In Waves se ne è parlato parecchio devo dire anche sulla stampa diciamo quella estera CBR Newsram eccetera eccetera se ne è parlato un bel po' è un prodotto molto particolare anche perché legato ad una storia particolare ce ne racconti per favore allora guarda la storia è abbastanza semplice AJ è una storia autobiografica è la storia di AJ e della della sua fidanzata e la sua fidanzata aveva un tumore e qua è la storia in cui la storia si lega alla storia alla tutta la storia di come è nato il surf perché la loro passione in comune era proprio il surf quindi è una storia cioè abbiamo le tavole queste qua tenerissime della loro storia d'amore intramezzate proprio dalla storia del surf e è una di quelle è una di quelle storie che ti rimangono allora quando io l'ho letto la prima volta l'ho poi passato Michele gli ho detto guarda leggilo perché a me è rimasto cioè è una di quelle storie che ti rimangono addosso di quelle che non non te le scrolli via subito dopo che hai letto il libro è una di quelle che continui a pensarci ma non è magari raccontato così può sembrare una cosa che dici vabbè è la solita storia una storia d'amore strappalatrime un po' alla John Green come idea però in realtà è proprio una storia raccontata in maniera tenera sincera senza senza nessun tipo di pietismo lui racconta la storia come è andata e per lui è il suo modo per celebrare quello che era la sua fidanzata che non è uno spoiler del libro è venuta a mancare e quindi è il è il suo modo per raccontare quello che hanno vissuto insieme ecco è una cosa allora sono molto sensibile a questo tipo di racconti già in qualche maniera insomma ci sono stati vari momenti ma non solo in Mao all'interno del mondo del fumetto proprio dedicati a questi racconti di tipo autobiografico che poi sono delle storie talmente belle talmente emozionanti da essere a volte anche più incredibili rispetto a quelle dei supereroi mi sono dimenticato mi sono dimenticato di dirlo a Michele ma se non sbaglio Michele con cui condivido anche diversi gusti il fatto di fumetto è stato se non sbaglio insieme proprio ad Alpo il primo a portare in Italia Invincible vorrei vorrei proprio lanciarla lì mi pare che siano stati i propri primi a portare il primo volume di Invincible che sapete essere una delle mie saghe di supereroi preferiti ecco a volte nella straordinarietà della realtà si nascondono appunto delle vicende meravigliose questo è un volume che veramente ci tengo molto quando esce In Waves ovvero Allora In Waves dovrebbe Aondate sarà la prima settimana di luglio giusto giusto per il selfie giusto giusto così abbiamo sai proprio quel libro da Caldino da poi è un librone che uno cioè ti dà proprio l'idea di lettura estiva di ampio respiro poi tra l'altro perché tra l'altro è un bel libroccio di quante pagine vediamo subito 375 pagine ragazzi un librone 375 pagine vi faccio i complimenti ad un prezzo veramente eccellente 23 euro 375 pagine ci si lamenta è vero o no Caterina che ci si lamenta un po' c'è sempre un po' di lamentera sul fatto che i prezzi stanno aumentando aumentano dei fumetti crescono eccetera eccetera però la verità è questa un libro a colori di 375 pagine cartonato eccetera eccetera con tutto il lavoro che c'è dietro di traduzione stampa eccetera eccetera insomma se lo confrontiamo con dei libri di narrativa stampare i fumetti costa tanto però è vero però un libro un libro di narrativa in bianco e nero senza nessuna figura roba del genere e brossurato lo paghi anche 20 euro senza no esatto anche perché tu non ci cioè magari uno non ci pensa però comunque anche nei fumetti la carta tutte quelle cose lì comunque tanti libri di narrativa magari li vedi stampati su una carta così quella giusta quella un pochino un pochino cheap invece magari il fumetto uno l'editore sta a vedere qual è quella migliore che non assorba il colore che faccia vedere bene e quindi è ovvio che stampare i fumetti costa tanto e credo che nessuno sovrapprezzi ecco almeno degli editori con cui ho frequentazione io di solito tutti cerchiamo di fare il prezzo giusto anche perché se mettere una cosa con un prezzo troppo alto rispetto a quello che potresti fare ecco una cosa una cosa che è abbastanza particolare ne era venuta fuori anche un po' durante una puntata un interessante dibattito si parlava molto del fatto che in Italia si sta assistendo anche un po' al calo dei brossurati brossurati sono sempre meno ma di fatto io l'ho fatto notare una casa editrice come Bao e una casa editrice come Panini hanno quasi abbandonato il formato brossurato e ormai stampate quasi esclusivamente cartonati e qual è il confine tra la scelta e la necessità cioè immagino che non ci sia solo la volontà dell'editore ma ci sia anche una richiesta di mercato giusto per andare a stampare questo tipo di formato guarda è abbastanza una risposta che sembrerà strana però stampare un brossurato e stampare un cartonato costa quasi uguale perché la cosa che costa è l'avvio di stampa e soprattutto lo spessore del libro quando si va sopra un certo spessore la rilegatura e queste cose qua costano cioè il prezzo diventa più alto proprio quando il libro diventa più spesso perché è la legatoria che ha bisogno di prezzi maggiori quindi tante volte noi scendiamo il cartonato rispetto al brossurato a parità più o meno di prezzo dello stampatore proprio perché è un cioè ti sembra di ti dà l'idea di avere più value for your money insomma cioè ti dà più più valore ti sembra di avere un oggetto più prezioso quindi è solamente una scelta proprio di anche stilistica a noi piacciono i cartonati ci piace di più vederli così a scaffale i cartonati poi ovviamente ogni libro ha il progetto giusto di cui ha bisogno però essendo che se tu stampi un brossurato un cartonato più o meno lo paghi lo stesso prezzo tanto vale fare il cartonato che è più bello parliamo di manga Caterina parliamo di manga parliamo di manga allora io ho seguito con molta attenzione Dosei Mansion tra tutte le letture che ho fatto della linea Iken credo in assoluto sia stata la lettura che ho preferito di più e anzi l'ho vista crescere capitolo dopo capitolo è un manga che ho trovato forse magari un po' lento all'inizio ma in realtà poi molto molto intimo molto profondo e l'ho trovato sicuramente una buona lettura però vedo che questo progetto di Iken sta continuando avete messo in piedi anche delle nuove iniziative adesso qui ne avevo saltato vediamo se riesco a trovarlo allora c'era Bonno Kuni che dovrebbe eccolo qui la taverna di mezzanotte Tokyo Stories questo che tra l'altro per chi ha visto la serie tv su Netflix che è Midnight Diner che è una roba estremamente giapponese voi dite eh vabbè grazie però veramente è proprio nello spirito giapponese se qualcuno ha passato qualche settimana in Giappone e si è trovato a girovagare per certe stradine di notte o ha approfondito un po' in quella che è la cultura giapponese quella serie su Netflix veramente fotografa delle cose che sono incredibilmente giapponesi e non sempre comprensibili dall'occidentale ecco non sapevo nemmeno che ci fosse un adattamento a fumetti l'ho scoperto con il vostro con il vostro annuncio e questa è una cosa che mi interessa quindi qui vedo la taverna di mezzanotte poi vedo Strange poi c'è la continuazione appunto di ehm eh Dosei Mansion tu hai prima parlato di Borno Kuni giusto? sì ecco ci fai una panoramica perché mi interessa molto questa cosa allora guarda in realtà mi siete buttati in un scusami se mi permetto mi siete buttati tra l'altro in un campo in cui in effetti il mercato in Italia dei manga è solidamente diviso diciamo su tre editori fondamentalmente e sono lì tutte le le property più grosse ma infatti la nostra idea non era neanche di metterci a fare concorso cioè non c'era nessuna idea di metterci in mezzo a questi tre editori infatti abbiamo fatto una linea abbastanza ristretta più o meno noi facciamo un'uscita al mese e teoricamente salvo Scorsori dovrebbe rimanere così anche per i prossimi anni è proprio per poter dare un'idea di noi vogliamo che ci sia in BAU la possibilità che se tu non hai mai letto niente hai un po' una visione di quello che è il fumetto mondiale quindi noi abbiamo i fumetti italiani abbiamo i fumetti americani abbiamo i fumetti europei abbiamo iniziato con la colonna cinese che è stata la prima le prime cose orientali che abbiamo fatto a parte alcuni libri tatsumi che abbiamo fatto però erano considerati un pochino più romanzo grafico come idea ai tempi perché avevano appunto avevano vinto comunque dei cioè non erano considerati erano considerati in modo un po' diverso rispetto al manga che siamo abituati a vedere ecco poi abbiamo iniziato con i fumetti coreani e abbiamo e volevamo poter dare un'idea anche un pochino del fumetto giapponese però un po' a modo nostro è stato proprio con la taverna di mezzanotte in realtà che abbiamo iniziato ad avere questa idea perché eravamo ad Angoulême abbiamo abbiamo incontrato l'editore francese che è L'Elesard Noir che ha una bellissima linea editoriale e lui ci ha detto guardate ho parlato con un sacco di editori italiani gli piace molto io lo chiamo la cantina in minuit perché sono abituata sono stata l'oletta per però nessuno tutti gli editori italiani con cui ho parlato non sono interessati perché pensano che sia un titolo molto difficile in realtà per noi era un titolo perfetto perché è abbastanza racconta bene la cultura giapponese e poi parla di cibo quindi mi sembra abbastanza le cose che ci piacciono di più uno dei nostri argomenti preferiti ecco quindi abbiamo la cantina di mezzanotte è uno in Giappone è una roba che vende ma milioni di copie a numero è veramente una roba abbastanza è un è inquadrato in un genere cioè fa parte di un non so allora è peggio del metal il manga il manga in Giappone è peggio del metal ha 30 miliardi di derivazioni e sottogeneri che ogni tanto è anche giusto rispettare però ogni tanto credo che vada sotto l'etichetta di food manga tranquillamente che comunque loro ne hanno ne hanno abbastanza ma è serializzato in rivista oppure pubblicato no è pubblicato direttamente in Tankobon tra l'altro è abbastanza avanti comunque in Giappone sono tipo al numero 22 sono è una cosa l'autore tra l'altro è un signore non dico è un signore di mezza età cioè non è un ragazzino lui ha lavorato ha fatto anche delle altre cose prima però non si era mai messo a fare una cosa così lunga e abbiamo iniziato abbiamo deciso di fare per noi è un po' un fuoricollana cioè è Iken però comunque è un volume più grosso rispetto agli altri perché sono due Tankobon insieme cioè noi pubblicheremo come la versione francese pubblicheremo due Tankobon per volta quindi sarà un e nella nostra e lo ricordiamo ecco che è collegato appunto alla serie nasce prima il fumetto e poi arriva sì 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 è stato poi tratto la serie televisiva che riprende abbastanza lo stile del fumetto perché comunque è una taverna che apre di notte giustamente e racconta le storie sono non ti dico che è proprio ha dei personaggi ricorrenti però anche tanti avventori raccontare le loro storie cioè è abbastanza la classica formula della storia autoconclusiva che poi sottolinea al percorso del personaggio della persona che va a mangiare nel ristorante per raccontare la sua storia ecco certo 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 questa esperienza con i manga come sta andando siete soddisfatti è un progetto che vi piace so essere un progetto molto difficile adesso qui facciamo vedere anche Strange quando è che sarà disponibile l'ultima di luglio mi pare o l'ultima di luglio l'ultima di agosto eccolo qui lo facciamo vedere altro manga della linea Iken questo è un boys love di storie di storie autoconclusive che raccontano un po' la diversità il problema del manga è ovviamente che negli onimi che le leggiamo il giapponese credo che questa sia un pochino la cosa un pochino più difficile è la scelta dei titoli e poter vedere ad esempio Dozei Mansion era una serie che io avevo seguito non è nuovissimo come uscita è già uscito 4-5 anni fa in Giappone almeno era una serie che io seguivo in americano e quando abbiamo abbiamo per un attimo per un attimo ho creduto che dicessi guarda io leggevo le scan guarda è stato pubblicato in America a me quelle copertine lì mi avevano subito la copertina del primo numero io appena avevo vista in una libreria americana ero già fuori di testa era proprio ci aveva scritto Caterina sopra quindi l'avevo subito preso e l'ho iniziato a leggere mi era piaciuto un sacco infatti quando abbiamo iniziato a pensare cosa poteva andare nella colla Iken io ho detto proviamo a chiedere se non era detto che una serie comunque è piacevole è bella sono belli disegni l'autrice ha un bello stile mi è sembrato quasi strano che fosse libera ecco quando siamo andati poi a chiedere a informarci sui primi diritti è stata la prima cosa che abbiamo detto va bene facciamola perché io l'avevo letta mi era piaciuta e abbiamo deciso di pubblicarla ecco certo quindi continuerà questa linea Iken state mettendo in cantiere tutta una serie di altri prodotti eccetera quindi diciamo che possiamo già dirlo avete pubblicazioni programmate fino a allora abbiamo se vuoi fare qualche anticipazione noi siamo molto contenti allora la prima serie che sei mention finisce adesso con il numero 7 l'idea è di poter avere una serie ogni due a mesi alterni una serie che si alternerà e di avere gli altri mesi o un'altra serie oppure degli one shot noi abbiamo adesso un altro manga che sta per partire che è Princess Maison che è un'altra storia molto molto giapponese perché è la storia di una ragazza che va alla ricerca di case e quindi anche lì con la scusa un po' della ricerca di case racconta cioè prende la scusa e racconta altre storie ma sono guarda quando l'editore quando gli abbiamo proposto questa pubblicazione lui ci ha detto ma siete sicuri guardate che secondo noi è molto giapponese io abbiamo detto no è proprio è proprio quello che cerchiamo di poter raccontare la cultura attraverso i fumetti vedi allora Strange e parte Princess Maison di Aoi Kebe che è già stata pubblicata uno one shot era stato pubblicato da Dimit l'anno scorso e poi l'altra serie che parte è di MBM Phu che è un manga sul Vietnam è la storia di questo di questo reporter in Vietnam che ha lui ha uno stile pazzesco cioè è diverso da tutti ha uno stile un po' cartoon è veramente io quando l'ho visto sono andata fuori di testa perché era era molto dinamico era molto bello insomma e continuerà la taverna di mezzanotte e poi per quest'anno più o meno queste sono tutte le uscite i manga il loro il loro calendario a parte magari qualche mese che ha avuto dei problemi con questi due mesi di stop tutte le cose che sono state annunciate usciranno questo sì ma è una casa editrice che proprio DNA ha anche sicuramente un'ottima propensione per l'avaria complice anche successo di zero calcare eccetera diciamo che vi si trova particolarmente a suo agio nell'ambiente appunto della libreria della varia come sono stati accolti i vostri manga cioè un manga che è tipicamente il prodotto da fumetteria anche se ne parlavamo prima anche a microfoni spenti in effetti il manga in libreria sta spopolando il manga seriale il manga seriale con il singolo Tonkabon che ricordatevi una cosa per chi ci ascolta nel mondo della distribuzione un manga che costa poco un volumetto non è un prodotto eccezionale per la varia che tende ad avere prodotti di più alto costo quindi per fatturare di più lavorando di meno tra virgolette estremizzando questo concetto comunque la movimentazione di un manga da 4,90 euro e di un librone da 21 euro esatto per loro il prezzo è lo stesso quindi è ovvio che però il fatto di aver scoperto che c'è qualcosa che può portare la gente ad andare abbastanza puntuali ogni mese in libreria è una grande è una grande scoperta che ovviamente fa gola ai librai quindi mi stai dicendo che è anche Iken ben piazzato in libreria siete riusciti anche a ricavare un po' quella nicchia anche in fumetteria che serve perché effettivamente lo scaffale dei manga in fumetteria è bello pieno è bello pieno poi adesso di Boys Love guarda di Boys Love proprio ho visto che è argomento caldo ne ho parlato allora ne ho parlato con Magic Press in realtà siamo andati proprio sullo yaoi proprio anche un po' più serio e forse anche un po' più spinto ne abbiamo parlato tantissimo con J-Pop ne abbiamo parlato con Star Comics manca solo adesso parlarne con Planet Manga quindi con Panini ma cioè è il genere del momento da lettrice Caterina pensi sia una moda pensi sia un fenomeno di costume un po' poco duraturo o credi che invece è un genere che visto che in realtà esiste da tanti anni in Giappone ma è un genere che rimarrà e che in qualche maniera si radicherà fortemente anche dell'universo delle letture proprio di tutti i giorni guarda io sul un po' sulle parabole del manga non so non so dirti perché noi trattiamo i manga come trattiamo tutti gli altri titoli quindi pubblichiamo le cose che ci piacciono quindi non stiamo mai a vedere che genere è una cosa che vogliamo pubblicare se la cosa ci è piaciuta ci è piaciuto la storia ci è piaciuto leggerlo noi lo pubblichiamo non abbiamo nessun tipo di anzi magari qualche volta lo facciamo anche a discapito di riuscire a pensare se c'è un mercato per una cosa eccetera se c'è una cosa che ci è piaciuta un sacco noi andiamo avanti poi speriamo che il pubblico ci venga dietro ecco però è ovvio che è bello perché è un genere che magari non era stato trattato fino o era stato trattato in maniera minore fino a un po' di tempo fa e io vedo che ci sono che se c'è un pubblico sicuramente è giusto che ci sia ci sarà sempre un mercato ecco quindi il fatto è che comunque noi stiamo sempre parlando di nicchie ma anche noi in generale del fumetto noi parliamo ma anche credo anche la narrativa si rivolge costantemente a nicchie e le nicchie sono sempre un buon bacino d'utenza ecco quindi finché secondo me potrebbe essere io spero che sia un genere che rimane perché è un genere che piace a me e quindi vediamo però non ti so non mi so mettere sei veramente una pessima dissimulatrice perché quando te l'ho chiesto ti si sono illuminati gli occhi e quindi ho capito che è un genere che ti tocca un genere che ti piace particolarmente questa è una cosa molto bella tra l'altro mi ha sempre fatto morire raccontare le cose perché alle fiere infatti tutte le volte che c'è io guarda che io sono una pessima raccontatrice di cose quando se qualcuno mi chiede di raccontare una storia una trama eccetera io alle fiere faccio schifo infatti ogni volta io ringrazio la persona che magari ha preso il libro che gli ho consigliato e gli ho raccontato la storia gli dico guarda nonostante quello che ti ho detto se tu lo stai comprando vuol dire che questo libro è davvero una figata e ti ha preso rispetto a tutto quello che ti ho detto io infatti certe volte magari vedo che ci sono quelli a cui devi un po' raccontare di più dico guarda noi abbiamo tipo Teresa che è la nostra aiuto commerciale che è bravissima a raccontare le cose e quindi dico guarda vai da Teresa ti racconta lei e non preoccuparti io guarda io ho basato da tanti anni che faccio questa roba su Lega Nerd in generale e alle fiere quindi ormai mi sono talmente tanto abituato a raccontare ma è una passione sì vabbè è una passione diciamo che se poi riesco a trasmettere un po' dell'entusiasmo bene io sono felice quindi questo va bene allora senti Caterina non sarai brava a raccontare le cose ma io te lo chiedo lo stesso quali sono allora i quattro titoli che consigli a tutti gli utenti di Lega Nerd di segnarsi nel piano editoriale di Bao adesso in uscita prossimamente qualcosa che veramente abbiamo già mostrato qualcosa io sicuramente aggiungo AJ Dango perché è una storia veramente toccante molto importante ho letto delle cose meravigliose io consiglio anche Isola ma perché quel tipo di fantasy fatto in quella maniera lì mi tocca in una maniera vabbè ma io veramente vado a nozze lo sanno tutti insomma che la mia lettura preferita in questo momento è una lettura che tipicamente nasce nell'ambiente Image Comics quindi credo che mi rappresenti molto però anche in generale io ho già consigliato Il Cubo dei Villamondi ho già consigliato Viola Giramondo tante delle uscite che sono appunto venute fuori nel recente periodo però veramente adesso ci sarà anche Gideon Falls tra poco quindi un horror probabilmente il miglior horror in circolazione Lemire è pazzesco cioè Jeff è una macchina è veramente ti offendi se dico una cosa vai ho detto nel mio percorso proprio di presentazione quando parlai di Gideon Falls lo definì il fumetto meno Bao del catalogo di Bao in realtà poi voi che siete poi gli editori di tante delle robe di Lemire non tutte perché ovviamente lui lavora anche per il mercato poi di supereroi o cose del genere quindi comunque c'è tutta una sua carriera anche a lato però effettivamente voi andate a pubblicare delle cose di qualche autore particolare dove ogni tanto magari io dico ma questo qui è meno nello spirito di Bao però in effetti poi ci ho anche pensato e mi sono anche detto è vero che è un horror psicologico potentissimo molto alla Lynch richiami a Silent Hill a cose del genere così però poi mi sono anche detto che il valore autoriale di quel fumetto lì è estremamente potente quindi mi sono permesso di fare questa estenazione però ti do la possibilità di 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 blastarmi in diretta di dire no guarda te lo dico io ti dico che in effetti non è la prima cosa che ti direi del nostro catalogo di Lemire perché io sono una fifona io sono veramente una di quelli che cioè se guardo io guardo anche Stranger Things coprendomi gli occhi perché ho paura quindi io sono proprio la persona più lontana ma ho proprio paura sono non è una è proprio un mio di carattere quindi se io ti dicessi che è il mio è il mio Lemire del cuore no perché il mio Lemire del cuore è Black Hammer per me Black Hammer come racconta i supereroi con tutto l'universo che ha creato lui con Dean Armstrong per me quella è una roba ma sei una sorpresa continua oggi perché non avrei mai detto che Black Hammer fosse una tua storia del cuore non l'avrei mai detto io leggo un botto di supereroi io ne leggo veramente tanti ne ho letti tantissimi e ne leggo ancora tanti e quindi per me tutta la parte supereroistica eccetera a me piace e poi raccontata un po' con quello spline esistenziale che ogni tanto tira fuori Lemire per me è top top la conclusione poi Black Hammer volume 4 è una roba veramente fotonica perché c'era c'erano tante probabilità che potesse anche perdersi nel corso della narrazione invece e siete stati anche bravi perché vi faccio i complimenti a aver pubblicato quegli spin off in mezzo facendo comunque come se tutto stesse continuando nella maniera giusta è veramente veramente infatti guarda ricevo le minacce di Alpo e mi dice Zetta non sottovalutarmi la Cate ma perché Alpo sa che io sono una maledetta nerd e quindi forse perché noi non abbiamo parlato mai tanto però sono sicura che secondo me come Gusti io e te andiamo molto d'accordo guarda alla prima volta che Michele vuole tornare nelle sue terre natie ci facciamo una mangiata senti una domanda dal pubblico c'è ragazzi ma Orfani quando esce che cadenza ha preso adesso allora guarda Orfani in questo momento siamo un po' fermi perché comunque noi abbiamo iniziato a pubblicarlo in un momento che Labbonelli non era in edicola e non era in libreria quindi era un esperimento cos'era il 2016 il 2016 forse il primo volume il primo volume di Orfani ce l'ho qui guarda ce l'ho qui è quello lì quello della Bao vabbè potrei anche andarla a prendere non importa e quindi era un momento un po' diverso adesso in questo momento non so dirti una cadenza precisa perché ovviamente tutti i calendari sono sono sconvolti quindi al momento non è è un attimo in stand by però appena sarà possibile diremo come come andremo avanti ecco però non ho non ho notizie precise in questo momento ti avevo chiesto i quattro titoli che l'editore consiglia dai spara allora io ho tre io ho tre titoli stranieri del cuore quest'anno che sono Laura Din a ondate e Ona Sambin di Tille Walden che uscirà a settembre Tille Walden è un'autrice che era stata pubblicata da Mondadori qualche anno fa ed era stata pubblicata a Trottole che è un po' la sua biografia la sua autobiografia della sua storia di pattinaggio Ona Sambin è un librone più mi pare che sia tipo sulle 600 pagine che è il suo webcomic che io ho seguito dall'inizio e lei è un'autrice pazz... lei è super lei è odiosamente giovane cioè è veramente mamma mia è del 96 è del 96 adesso ve la faccio vedere ragazzi vi faccio vedere Tille Walden madonna è del 96 va bene guarda lascia stare tu di che anno sei? mi sento io sono dell'81 Katia io ho quasi 40 anni vabbè io sono dell'85 siamo più o meno lì non devi dire la tua età in pubblico voglio sempre che qualcuno mi dica che non le dimostro non le dimostri ma infatti appunto perché svelare l'inganno Tille Walden è un'autrice pazzesca e lei ha fatto questa saga che si chiama Anna Sunbin che è un un webcomic ed è un webcomic spaziale eccolo qua eccolo qui ed è sempre in quella un po' vena di un po' come la fantascienza quella che piace a me adesso un po' tipo from the loop quindi un po' quella cosa un po' tristanzuola di fantascienza eccetera che secondo me quando te lo portate? a settembre settembre sì e poi se devo scegliere ancora un titolo tra gli italiani dell'anno di quest'anno secondo me la terra il cielo e i corvi di Radice Turconi è una roba fuori scala sono molto molto curioso molto molto curioso e anzi lo diciamo perché in realtà poi ne ho parlato anche con con Daniela vorrei avere appunto Turconi Radice live con me al Tronanderla vorrei parlarne vorrei ho visto che tra l'altro anche la puntata che abbiamo fatto sul genere young adult avevamo Christian Corni e tanti altri ospiti Giorgio Salati eccetera è stata una puntata molto seguita e vorrei approfondire tutto quello che è non solo la loro diciamo avventura nel genere young adult ma anche proprio il loro modo di raccontare mi piace se riesci a risolvere tutte le problematiche tecniche di connessione perché comunque io l'ho detto ci proviamo quando ho fatto la live con Teresa e Stefano ne abbiamo fatte due io gli ho detto guardate ragazzi se io pensavo che noi cinque quattro anni fa voi mi avesse detto noi facciamo una live e parliamo su internet di cose tramite tecnologia io non ci avrei creduto io quando li ho conosciuti non avevano neanche un cellulare e da quando Teresa ha preso il cellulare ha iniziato a scoprire Instagram che tutto si è velocizzato però è veramente un miracolo della scienza della tecnica ricordiamo solo una cosa Wicked and Divine devono uscire appunto gli ultimi due volumi corretto e sono il 5 e il 6 dicono stupidaggine il 5 mi pare che sia uscito devo uscire il 6 e devo uscire il 7 e dopo è concluso basta appunto quindi si conclude la serie di Kieron Gillen è anche un spin off che credo che sia o il 6 il 6 mi pare che sia fatto di spin off però non non sono sicurissimo ecco ho capito e poi quella arriva ovviamente a naturale conclusione io invito di nuovo i lettori a seguire Ascender il seguito di The Sender che è veramente notevole che è veramente notevole con la mano di Dustin è pazzesco Dustin guia in tanta roba come io lo sai che io sono un fan di Scottie Young il suo Middle West l'ho trovato particolarmente forte particolarmente bello per quello ci sono idee per il proseguimento di Middle West guarda dovrebbe uscire credo in autunno il secondo volume perché comunque sta per uscire adesso negli Stati Uniti il secondo e noi li seguiamo abbastanza a ruota sarà una serie all'inizio doveva essere una serie di tre volumi invece sarà un pochino sarà Scottie ci ha preso gusto gli è piaciuto scriverla e quindi continuerà oltre il terzo strepitoso strepitoso Kate io ti ringrazio per essere stata qui con me questa sera ringrazio anche Michele che è andato via un po' prima perché ha da lavorare mentre noi qui facciamo i belli splendidi in diretta wow che posso dire allora innanzitutto grazie complimenti per tutta la vostra attività editoriale complimenti per la vostra attività di comunicazione siete sempre molto attenti e questa è una cosa che non passa mai in osservare grazie si vede che c'è il vostro spirito si vede che non succede sempre di comunicazione io non lo smetterò mai di dirlo sono super Dani e Chiara sono salutiamo Daniele e Chiara che mi sentono settimanalmente e quindi veramente le saluto le mando veramente un grosso abbraccio entrambe loro lancio di nuovo questa cosa ragazzi lo spazio che stiamo dando alle case editrici italiane serve anche per capire un po' la filosofia che sta dietro al lavoro di un editore è molto facile a volte anche lasciarsi andare a non necessariamente critiche quantomeno giudizi sull'attività di un editore va anche capita e ogni tanto sentire la voce stessa degli editori per farsi un'idea diversa magari di quello che è il lavoro difficile perché ricordalo Caterina è difficile fare libri in Italia è una follia per l'editore ecco ecco va detto soprattutto con questi periodi assolutamente inediti che ci stiamo ritrovando a vivere una formula alla fine ti lascio con un'ultima frase che mi piacerebbe sentire da te in questo momento sicuramente il mercato del fumetto è un mercato che ha bisogno di rimettersi in piedi di ristabilirsi di vedere non solo una salute all'interno delle librerie e delle fumetterie ma anche forse un nuovo spirito la butto lì anche una nuova maniera di farsi concorrenza anche perché è evidente che stiamo tutti giocando su un campo che se rischia di deteriorarsi poi non abbiamo più alcun posto dove andare a giocare cioè se pensiamo di fare la disinfestazione con la dinamite su questo campo da calcio non ci torneremo più a giocare o potrebbe essere molto difficile quindi nello spirito Bao un messaggio che vuoi lanciare anche di una visione per il futuro prima non ne abbiamo parlato è una cosa che sicuramente affronteremo anche in futuro che è il fumetto digitale sicuramente il fumetto digitale è qualcosa che prenderà sempre più piede Bao Publishing è già da parecchio tempo che fa le versioni Kobo le versioni Kindle eccetera dei propri fumetti vediamo spesso che avete numerose offerte da questo punto di vista durante la quarantena l'avete fatto teoricamente è andato praticamente tutto il catalogo in offerta a periodi scaglionati ecco ecco e forse siete l'unica realtà italiana ad avere completamente l'intero catalogo in versione digitale non lo so allora quasi tutto perché ovviamente ci sono quasi tutto alcuni giapponesi alcuni francesi non ti lasciano i diritti per il digitale anche ad esempio tra l'altro ecco una notizia molto bella che posso dare stasera è che in digitale arriverà presto Bon che è stata una cosa per cui abbiamo lottato tantissimo perché Jeff e che bella notizia hanno potuto farlo e invece ci hanno dato recentemente ma tipo due settimane fa la possibilità di fare Bon quindi Jeff Smith mi viene in pdf allora e vai bella bella notizia bella notizia anche perché è grosso così Bon è grosso così quindi per una volta che trovate un posto dentro la libreria che non c'è la trovate dentro al tablet non male non male non male questa cosa ecco quindi lascio a te la parola veramente qualcosa per dire anche in mood bao cosa vedete per il futuro e quale pensate possa essere un percorso virtuoso da fare guarda quello che ci siamo di quello di cui ci siamo accorti in questa quarantena è il fatto che comunque non importa in che modo con che formato in che in che modo si è stampato in digitale inciso su pietra la cosa su cui lavoriamo noi sono le storie quindi la cosa bella è che in qualsiasi metodo tu voglia leggerle tu voglia cercarle eccetera noi vogliamo dare la possibilità di far girare le storie che piacciono a noi e che la gente le possa leggere le possa consigliare e quindi secondo me è la cosa più importante quindi è la cosa che ci rimarrà di questo periodo è proprio che la possibilità di poter leggere le storie in qualsiasi metodo per noi l'importante è che girino quindi penso che il lavoro dell'editore non sia quello non sia il fatto di essere una stamperia ma sia proprio quello di poter scegliere quali sono le storie che l'editore vuole raccontare insieme all'autore quindi in questo modo mi sembra un augurio sia proprio quello che spero che ogni editore continui a raccontare le storie che vuole raccontare e che cerchi sempre le persone giuste per cui quella storia gli si attaccherà addosso avranno voglia di tenersela con sé quindi la cosa è di fare sempre cioè il consiglio che potrei dare a chiunque è continuate ognuno continui a pubblicare o a leggere le cose che gli piacciono quindi secondo me se ognuno continua a metterci il cuore nelle cose che fa nelle cose che legge quello è il metodo che abbiamo tutti per sopravvivere quindi la cosa è continuare a farlo con passione e lo so che saranno tempi duri ci sarà un sacco di cose contro cui combattere però se noi lo stiamo facendo per le cose che amiamo sarà tutto più facile non ho niente da aggiungere non ho niente da aggiungere grazie allora grazie Caterina grazie a Michele grazie a Baopublishing grazie a te ovviamente Baopublishing la trovate in tutte le librerie in tutte le fumetterie e sui vari store digitali eccetera sul proprio sul proprio sito ma già dalla settimana prossima ragazzi tranquilli che cominceremo di nuovo con le recensioni quindi sicuramente poi avremo modo di parlare eh sì 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 tra l'altro tu non sai cosa è successo a mia moglie che praticamente è diventata nel corso della quarantena per stare in contatto con i propri bambini del proprio asilo ha raccontato tante storie tante storie derivanti anche da tanti fumetti e in particolare anche alcune storie derivanti proprio dalla vostra linea babà o dalla vostra linea per i più piccoli con Michael e Mirko un sacco di cose e la palla rossa è una di quelle cose che quando è nevergreen quella però è finita eh ma quello è un evergreen quello resterà per sempre tipo veramente un qualcosa di salutiamo Michael intanto va bene allora Kate grazie di tutto grazie a te in bocca al lupo e buon lavoro per tutto quanto mi ha fatto un sacco piacere vederti non scappare che adesso ci salutiamo un attimo in backstage per tutti quanti ragazzi noi ci vediamo venerdì con la puntata del Tea Time del Tronandare la puntata quella più leggera di alluggerimento di divertimento e di grandi aperitivi continuate a seguire Lega Nerd ovviamente ciao dal vostro Zcastle ciao ragazzi ciao ciao ciao